qualità tecnica bellezza sicuramente tutti ci invidiano il nuovo adria matrix e 50 dl noi abbiamo scelto una versione access perché ci sembra quella equipaggiata giustamente bene per il prezzo che a cui viene proposto vediamo innanzitutto il muso il muso adria molto bello con i dl dl led che non vedete in questo momento perché chiaramente il quadro è spento il quadro strumento è spento bel gioco di colori con il grigio sotto la calandra e il nero opaco che troviamo sulla griglia frontale fendinebbia compresi nella versione access cerchi lega bellissimo il nuovo cupolino secondo me tra tutti i marchi che noi gestiamo e il cupolino fatto meglio poi farò vedere all'interno il motivo della mia dichiarazione led anche davanti per verificare la posizione della l'altezza del veicolo camper che ha una metratura di 7 29 per 2 metri 30 per 2 90 quindi un veicolo molto compatto solite bandelle in alluminio per quanto riguarda adria porta larga ovviamente sempre comandabile con la chiave chiusura centralizzata che va a interagire anche con le portiere anteriori luce esterna parete posteriore inclinata per i nuovi a i nuovi matrix e dicevo la sicuramente un must per quanto riguarda il marchio e la scaletta col portapacchi inserito su tutti i modelli tranne ovviamente i furgonati e motorhome garage di dimensioni sicuramente generose con un carico massimo di 200 kg abbiamo le canaline laterali con i ganci che si possono ovviamente spostare in tutta per tutta la lunghezza in base a quello che ci dovete caricare chiaramente ci sono delle valvole o dei buchi di sfogo per l'aria o per l'acqua che sono molto interessanti su questo veicolo le luci sono a led anche in questo caso come vedete nella parte della parete posteriore ma guardate l'interessantissimo sistema che ha creato adria per dividervi e parzializzarvi la parete che va verso l'interno quindi cassettiera quasi porta scarpi o quello che avete bisogno stessa cosa dall'altro lato interessantissimo vano laterale su questo io avrei messo anche una barra penderia perché si potrebbe usare come un secondo armadio visto che nei gemelli l'armadio alto non c'è praticamente mai interessante anche la soluzione del vano che troviamo qua in mezzo che potrebbe essere un vano a giorno che è molto profondo vi faccio vedere come può trasformarsi tranquillamente in un vano chiuso perché la diciamo la il pensile che ci danno va a chiudere totalmente il vano con i suoi push lock ovviamente tutti i mani i vani i garage posteriori di adria sono provvisti di due venti e di accendisigari ovviamente parliamo di un vano che riscaldato come vedete dalle bocchette che troviamo sull'angolo vi prendo la misura del vano come apertura e come interno proprio perché ci tengo che anche da lontano si possa capire e percepire l'ampiezza di questo vano che è veramente importante si parla di una larghezza totale di 85 per un'altezza totale di 120 internamente il vano ha una larghezza a mobile di 113 centimetri è un'altezza che è simile a quella dell'apertura perché parliamo di 123 circa quindi è un vano sicuramente dimensioni importanti va benissimo anche per un trasporto scooter sul laterale abbiamo l'attacco per il 220 l'attacco di una presa multipla con un 220 esterno un accendisigari esterno e la predisposizione all'antenna e all'antenna satellitare per l'esterno quindi chi volesse avere anche esternamente queste tre queste quattro opzioni può tranquillamente averle perché è già predisposto e sono già ovviamente collegati bisogna inserire le antenne parliamo del lato sinistro del veicolo non vi ho parlato degli adesivi bellissimi su questa versione un grigio scuro che va a contrastare il bianco il chiaro della parete ed è veramente veramente molto bello da vedere sul vano posizionato al lato della portiera di ingresso per il guidatore abbiamo la di blu e il serbatoio del gasolio successivamente il carico dell'acqua lo sfogo di una combi della combi vano bombole molto grande per due bombole con già inserito e compreso ovviamente nell'offerta adria il monocontrol con il filtro e il pulsante sul tubo sul flessibile porta sinistra identica uguale dimensione di quella a destra abbiamo anche qua una bocchetta che fa da riscaldamento per il vano e guardate che figata abbiamo anche la possibilità di avere il cric non sotto il sedile che va ad ingombrare ma ad un vano dedicato in un vano dedicato posteriormente che non dà fastidio a nessuno e come vi ho fatto vedere come per l'altro vano si può tranquillamente chiudere e si trasforma in un vano chiuso che non si vede andiamo dietro vi faccio rivedere il posteriore perché non ci siamo soffermati sul paraurti molto sottile è stato veramente quasi assottigliato mi verrebbe da dire con le luci a led che fanno la gestione degli stop delle frecce e di tutto ciò che riguarda la fanaria posteriore e questo questo paraurti molto bello che va ad integrare la targa e che rispetta sicuramente gli standard estetici di adria cassetta del vc che ho lasciato chiusa volutamente perché sennò me la rubano no scherzo vi consiglio di chiuderla perché ve la rubano però io l'ho lasciata chiusa perché mi dimentico tutto porta interna qua abbiamo un interno che spacca cioè stiamo parlando di un veicolo fatto davvero molto bene face to face con una panca laterale molto molto ampia ricordiamo che il face to face è sempre un quattro posti omologati e un cinque posti a dormire cinque posti a dormire non nella dinette il quinto posto ma con la possibilità di utilizzare un letto gemelli che si può unire diventa un lettone gigantesco dove possiamo far dormire veramente le tre persone caratteristica di adria in qualsiasi versione è sicuramente la plancia sulla parte dedicata al clima adria fa sicuramente un upgrade molto importante il clima automatico per la versione del nuovo ducato molto molto bello quindi design sicuramente indovinato da parte di fiat bello nuovo volante caratteristico sembra quasi in stile automotive bello nuovo pomello totalmente in pelle entrambi retrocamera già inserita nell'offerta arca abbiamo il monitor abbiamo la retrocamera dietro inserita nel carter sotto il terzo stop non perdiamo mai gli oscuranti più settati che sono molto intelligenti e molto semplici da utilizzare su questa cosa mi devo soffermare onestamente non sono un amante di questa versione mi piace più la versione che dal basso si muove verso l'alto perché secondo me può parzializzare la privacy che voglio avere all'interno e può parzializzare anche la luminosità che all'interno voglio far trapelare quindi io avrei scelto sicuramente l'oscurante che si muove dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto perdono molto belli tessuti ovviamente i tessuti sono scelta tranne la pelle tutti i tessuti adria sono gratuiti quindi potete scegliere tra tre o quattro versioni in base ovviamente al veicolo che andate a configurare per voi sedile entrambi sedili con la piastra girevole i copri sedili sono chiaramente nello stesso colore della tappezzeria scelta posteriormente sono intelligenti queste luci che sono in stile minimal secondo me sempre led con il pulsantino sul lato vi faccio vedere il perché mi piace moltissimo questa questo blow di adria a parte che è molto ampio ma diciamo che sulla misura di più o meno su tutti i semi integrali abbiamo una misura analoga ma la cosa positiva è che non installa un cassonetto dell'oscurante zanzariera vicino alla guarnizione ma muove totalmente l'oscurante su due guarnizioni laterali quindi è di un'eleganza secondo me bellissima è eccezionale perché una volta chiuso non vedrò questo oscurante che sovrasta la finestra con di lato la parete ma vedo proprio una chiusura totale ovviamente ho anche la possibilità visto che si può aprire di avere la zanzariera movimento molto semplice zanzariera a memoria quindi pressettata anche lei utilizzo facilissimo è sicuramente un accessorio secondo me che serve su questo tipo di veicolo perché porta tantissima luce e quando si va a dormire sul nostro basculante anteriore abbiamo la possibilità di avere un ingresso d'aria importante quindi non soffriamo sicuramente il caldo mi piace moltissimo la gioco di luce che hanno fatto nel senso che tutti i pensieri sotto sono retroilluminati o sottoilluminati forse sta meglio i vani all'interno di sui laterali scusatemi del cupolino sono vani rivestiti quindi non si va contro la parete ma tutti gli effetti un vano molto belli i vani che troviamo sui lati del basculante sono a parte la parte estetica che è molto bella da vedere apertura ritardata con questi pistoni a gas abbiamo un'altezza di circa 25 per una ragazza totale di circa 57 mi viene da ridere perché prima ho sbagliato a usare il metro lo stiamo rifacendo questa cosa no? e questo va non misurava 20 quindi Alessandro mi dice guarda che sei un pirla stai usando il metro l'unità di misura sbagliata quindi ringraziamo Alessandro che è il cameraman dopo vi farò dare anche i suoi riferimenti andiamo alla profondità non ho detto quindi scusate riprendo anche la profondità perché così diamo un dato giusto e preciso 21 stessa cosa dalla parte opposta la differenza è che abbiamo due vani leggermente più piccoli ma la profondità è identica in questo caso abbiamo un'altezza di circa 25 anche lì con una larghezza totale di 42 quindi il lavoro estetico fatto veramente molto bene il lavoro di stivaggio secondo me su questo tipo di veicolo è ottimo vi faccio vedere la parete multimediale che troviamo quando si sale sulla nostra sinistra interessante questo nuovo progetto di Adria Adria è uno dei pochissimi marchi dove si può installare anche fino a un 32 pollici ovviamente si parla di un braccio tv che ruota e va ad inserire il tv alla contrario quindi in verticale sul laterale è chiaro che chiunque non volesse il tv può non montare assolutamente nulla o uno specchio ma si può installare anche un tv di 24 pollici o di 26 pollici o 19 pollici semplicemente ma Adria è l'unica che comunque vi dà la possibilità di avere quel tipo di grandezza abbiamo sul lato della colonina che troviamo qua un 12 volt un'antenna satellitare e un 220 mentre sottostante abbiamo l'azionamento quindi il pulsante per abbassare e alzare il basculante sopra la nostra centralina e il nostro cp plus cp plus che gestisce ovviamente la truma ma anche la reazione all'interno del camper perché le nostre canaline la nostra aria canalizzata può essere si può aumentare o diminuire la velocità e si può decidere col cp plus anche a che ora far partire la truma e che ora volete che si spenga maniglione d'ingresso luci quindi diciamo questo è il settore dei nostri interruttori che su Adria sono dimerabili quindi vuol dire che nel momento in cui vi faccio vedere gli spot a tetto nel momento in cui tengo schiacciato posso decidere l'intensità della luce e quindi diminuirla o aumentarla diciamo sotto gli interruttori abbiamo anche una doppia presa usb che troviamo prima dell'uscita e un vano contenitivo anche in questo caso per quello che chiaramente vi serve qui troviamo l'ispezione per il serbatoio delle chiare che ovviamente tra i due pavimenti quindi rimane comunque riscaldato mentre la bottola successiva è un vano contenitivo che va benissimo per riporre delle scarpe dell'infradito tutto quello che vi serve nella gestione e nelle uscite che fate o weekend o vacanza lunga bellissima la cucina questo è il nuovo materiale che ha adottato Arca eh sì mi sbaglio sempre ragazzi non ce la faccio io so stanco dovete comprarvi quell'Arca lì e quest'Adria qui così non posso più sbagliarmi ad ogni modo questo è il nuovo piano di piano cottura che ha ideato cosa ridi a fare che poi sbaglio questo piano cottura che ha ideato Adria che in un materiale molto simile a prima vista al marmo ovviamente non è marmo visto che stiamo sempre attenti ai pesi però è molto intelligente perché oltre ad essere bello da vedere è fatto apposta perché non si righe e non si rompa non provate col martello però in linea di massima con le posate o con i piatti non succede nulla tre fuochi in linea con come nella tradizione Adria eh eccolo lì sto sbagliando di nuovo Adria che lo trovate trovate i fuochi posteriormente al piano cottura bella la parete anticondensa che da alloggio all'oscurante zanzariera della finestra e anche molto bello il vano del nostro lavello che è molto capiente mi sono stupito quando ho visto il veicolo dei cassettoni i cassettoni sono davvero molto ampi parliamo di cassetti da 52 cm con una profondità di 47 cm ed un'altezza di circa 10 cm quindi sicuramente un vano di tutto rispetto questo è il primo il secondo rispecchia la stessa misura il terzo e ultimo vano è leggermente più limitato qui abbiamo una profondità di circa 25 cm una larghezza di circa 56 cm ed un'altezza che rispecchia più o meno gli altri due di circa 20 cm più o meno invece i vani che abbiamo alla nostra sinistra hanno la stessa profondità di quelli alla nostra destra cambiano per larghezza perché chiaramente qui abbiamo la parte del lavello qua abbiamo una larghezza totale di 32 cm per un'altezza totale di 10 cm come i cassettoni dall'altra parte il secondo cassetto è uguale il terzo cassetto è leggermente limitato per il passaggio degli impianti quindi siamo ad una profondità di circa 30 cm quindi comunque Adrien qualsiasi veicolo che ha fatto e che fa cerca sempre anche nei punti meno pensati di ricavare dello spazio e dei vani molto bello il nuovo tavolo tavolo a libro che ovviamente si sdoppia ha un sostegno chiaramente per renderlo molto molto rigido un tavolo dove si può mangiare tranquillamente in 5 barra 6 perché è molto grande, molto largo la panca di qua poi è doppia quella di là è limitata dal fatto che c'è la porta ma quella di qua può tranquillamente ospitare due persone e ovviamente si può girare su se stesso oltre ad essere anche spostato davanti e dietro e a destra e a sinistra quindi direi che è sicuramente uno dei tavoli più belli che ho visto su semi integrale proseguiamo frigo alto versione slim con il freezer integrato quindi all'interno della del nostro frigo, monoporta chiaramente riscopriamo un altro vano che è profondissimo qui abbiamo praticamente di profondità circa 58 cm un'altezza di circa 33 cm una larghezza totale di 42 cm quindi un vano veramente grande l'oblò sopra la zona cucina è un oblò 50x50 crystal quindi trasparente vi faccio passare dall'altra parte e vi faccio vedere il vasculante letto basculante che qua è sì veramente un matrimoniale a tutti gli effetti perché rispetto ad altri dove abbiamo il taglio della porta qui non ce lo abbiamo però il letto si ferma in una posizione tale ad un'altezza tale che comunque mi consente di uscire senza particolari problematiche non mi fanno... non dico che sia sbagliato inserire l'angolo o quindi tagliare l'angolo nei basculanti per far sì che la gente esca nel caso di pericolo chiaramente o se deve fare qualcosa e c'è qualcuno che dorme con facilità però secondo me quello che ha fatto Adria quindi di installare un letto che non va giù totalmente basso come gli altri ma rimane leggermente più alto e con la porta larga permette comunque di uscire con facilità perché in questo momento è tutto giù potrei ancora recuperare circa 4 cm ma io vi faccio vedere che sia nel caso di un'uscita che nel caso del mio ingresso non faccio assolutamente fatica ad entrare perché comunque ho tantissimo spazio vuoi da parte della porta che è larga ripeto facilitando sicuramente l'uscita e l'ingresso di una persona facilitando sicuramente l'uscita e l'ingresso della persona ma sicuramente anche di net face to face che permette di avere un corridoio molto più largo quindi uno spazio di manovra totalmente diverso letto fatto molto bene con le doghe in legno ovviamente con la rete di protezione anti caduta abbiamo una larghezza totale del letto se riesco a leggere la stessa unità di misura che sbagliavo prima di 120 per una lunghezza totale di circa 196 196 e mezzo circa quindi letto fatto molto bene come vi spiegavo prima abbiamo sia un oblo da una parte che l'oblo dall'altra parte o anche una tendina che mi consente di avere della privacy nella parte anteriore nella parte del basculante sopra il basculante ovviamente troverete vi farò vedere dopo anche una tendina per la privacy nella parte del letto posteriore quindi Adria è sicuramente molto attenta a tutte queste dinamiche e secondo me sicuramente va evidenziata anche questa cosa perché non vi dico in quanti veicoli manca totalmente la tendina per fare perché che consente di avere della privacy quando si va a letto vi alzo il basculante risalita rispetto ad altri veicoli leggermente più lenta e anche discesa leggermente più lenta però ho notato che rispetto ad anti camper che hanno il basculante mi dà un'altezza interna maggiore cioè gli altri veicoli che hanno il basculante sono leggermente più bassi invece secondo me Adria va molto bene contro il tetto del veicolo quindi mi consente di avere un'altezza secondo me invidiabile notate che comunque parliamo di un'ottima altezza vi faccio ripassare di qua vi spiego vi faccio vedere il bagno e la doccia docce bagno che sono gigantesche guardate che doccia angolo con che dà alloggio ovviamente al doccino e al miscelatore sopra abbiamo uno proprio piccolino un 28x28 la luce led è all'interno della nostra colonna che si può accendere e spegnere interessante la barra penderia perché se devo far sgocciolare una giacca da sci o altro ho sempre la possibilità di appendere doppia piletta di scarico anche questa non è presente su tutti i veicoli ma la cosa fatta veramente bene è questa porta della doccia fatta davvero bene perché non si chiude quindi rimane non si richiude ma rimane aperta nel momento in cui l'utilizzo vedete già il primo utilizzo si vede subito che è fatta molto bene e oltre a quello non ho gancettini ganci da inserire ma ho delle calamite molto forti vi faccio solo vedere che tipo di presa fanno per farvi capire che sono veramente molto forti e quindi tendono a tenere serrata la porta quando la aprite e anche durante la marcia non avete da che propoparvi sotto in basso ho una bocchetta dell'aria calda che mi va a scaldare ovviamente anche la doccia quindi se lascio delle giacche o altro non avrò sicuramente problemi ma si scalderanno sicuramente bene interessante questo aspetto di Adria cioè il tagliare fare la mezzaluna sul primo gradino perché mi consente di aumentare il pavimento calpestabile nel momento in cui devo chiudere la porta del bagno quindi non devo salire per forza sui gradini ma posso farlo anche rimanendo sul mio pavimento classico vi faccio entrare in doccia così vi faccio vedere il bagno guardate che bagno bagno ripeto di un semi integrale da 7 metri e 29 non mi piace la tazza ciotola o chiamatela come volete che va in appoggio questa non mi fa impazzire su nessun tipo di veicolo però c'è e ce la dobbiamo tenere oblox crystal sempre per mantenere una luce all'interno del veicolo vano gigantesco io a casa un vano così non ce l'ho mia moglie continua a dirmelo ma io non glielo compro perché sennò se io lo compro le compra più roba da metterci dentro quindi è meglio non farlo uomini non lo fate però Adria l'ha fatto quindi vuol dire che rispetto a tantissimi altri camper abbiamo sicuramente il doppio del vano nel bagno dedicato al bagno bellissimo questo specchio con una retroilluminazione molto molto elegante in basso abbiamo comunque un mobiletto quindi Adria ci dà sempre tanto spazio anche in bagno la WC ovviamente orientabile la porta del bagno fa da privacy cioè va a chiudere la zona giorno o più meglio diciamo meglio la zona bagno con la zona giorno riapro vi faccio andare di lì e mi chiudo all'interno mi chiudo perché vi faccio vedere che anche in questo caso Adria ha pensato a tutto tendina di separazione zona notte e zona giorno ma soprattutto la possibilità di avere tre zone contraddistinte quindi zona giorno zona bagno e doccia zona notte con due porte che contraddistinguono proprio le varie zone eccezionale ottimo bravi Adria avete sicuramente fatto avete sicuramente progettato un veicolo di un certo livello i due gradini che troviamo sono entrambi con la possibilità di caricare quello che volete ovviamente il vano che si trova in questo gradino è lo stesso che vi facevo vedere prima con l'anta che si può staccare o attaccare in base a quello che ci carico anche nel secondo gradino abbiamo comunque un carico in questo caso però quello che carico all'interno non va in altri vani ma è semplicemente quello che ho all'interno del veicolo ovviamente come tutti i gemelli anche questo si può unire diventa un maxi matrimoniale parliamo di una misura veramente importante vi prendo la misura in modo da avere un dato preciso anzi ve lo monto tanto in Adria ci danno tutti i cuscini già compresi per farvi vedere precisamente la misura allora nel lettino centrale abbiamo 1,75 nei laterali abbiamo circa vediamo se riesco senza fare danni 1,87 ma quello che aumenta è sicuramente la larghezza perché in questo caso abbiamo due metri due metri e dieci di larghezza totale quindi sicuramente un letto che non trovate da nessun'altra parte vi ho detto questa cosa del fatto che Adria fornisce il cuscino centrale ai gemelli perché mi sono stupito nello scoprire che ci sono dei marchi che lo fanno pagare mentre no in Adria è compreso anche quello e avete compreso anche ovviamente le reti la rete con doghe in legno che è reclinabile cioè in tutti gli Adria avete questa possibilità potete alzare la parte posteriore per leggere o vedere la tv il vano che trovate dalla mia parte dalla mia sinistra ha una barra penderia quindi funziona fondamentalmente da armadio e avete questo sistema ideato da Adria per chiudere totalmente il vano o per trasformarlo in un vano a giorno sempre disponibile è una scelta chiaramente di chi utilizza il veicolo stessa cosa dalla parte destra del nostro letto con la stessa tipologia di anta cioè che viene fuori e va a chiudersi oppure si utilizza semplicemente a giorno qua non avete la barra penderia perché l'armadio solitamente è quello a sinistra ovviamente a destra ma dove c'è la barra triplo vano molto molto capiente vi prendo anche la misura di questi come altezza qua abbiamo 20 cm per 65 per una profondità totale di 29 cm quasi 30 quindi anche questi sono dei vani di tutto rispetto oblo trasparente e doppia finestra quindi sicuramente di claustrofobia qua non muore nessuno sicuramente è un veicolo luminoso guardate che zona posteriore tutta bianca proprio per darvi tantissima luminosità questo è l'alloggio per la tv la seconda tv in zona notte per chi la volesse avete già ovviamente questa parte avete gli interruttori ma dall'altra parte l'allaccio per l'antenna tv e l'accendisigari che va a comandare ovviamente il vostro tv a questo punto abbiamo visto tutto i cuscini sono sempre da scegliere li scegliete voi e sono in coordinato con la tappezzeria direi che abbiamo visto tutto di quest'adria e di questo meraviglioso prodotto a questo punto vi chiedo di mettere ovviamente il like alla pagina e al nostro canale di mettere il like ovviamente al video io sono giovanni vi lascio il mio cellulare che è 338 67 60 298 e vi faccio lasciare il cellulare anche del collega Alessandro 335 17 68 460 ad ogni modo signori non ci sono tante disponibilità ormai quindi il consiglio che vi possiamo dare il miglior consiglio che vi possiamo dare in questo momento è che visto la travagliata stagione di quest'anno e quella che ci aspetta l'idea che diciamo il consiglio che vi si può dare è quella di prenotare il prima possibile il vostro camper sappiamo che ci saranno ci sono dei ritardi ci saranno ancora dei ritardi per l'altissima richiesta che ha generato negli ultimi due anni il mondo dei camper però noi cercheremo sempre di essere a disposizione perché l'importante è avere comunque dei consulenti vendita come me e Alessandro che vi rispondono sempre quando chiamate darvi le indicazioni che i marchi ci danno a questo punto il prezzo non ve lo dirò perché ci dobbiamo vedere qua da noi per verificare realmente la qualità del camper la bellezza del veicolo e capire se è quello che noi vi consigliamo per la vostra vacanza e per la vostra vita in camper io sono Giovanni e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao